La predicazione di oggi è curata dalla pastora Milena Martinat. Benvenuta cara ascoltatrice, benvenuto caro ascoltatore, cara sorella, caro fratello. Iniziamo il nostro culto di questa mattina con una parte di un testo scritto da un fratello del Camerun. Vieni, abile scultore, scolpisci la mia anima, rendi la bella della tua bellezza. Scolpiscimi, fai di me una bella immagine tua, un'immagine di Dio. Tu, il buon vasaio, vieni a forgiarmi, forgia il mio essere secondo la tua volontà, impasta la mia anima con le tue mani, liscia i contorni, impasta, impasta. L'argilla ribelle. Signore, Padre nostro, vieni in mezzo a noi, rendici attenti alla tua parola che parla al nostro corpo, alla nostra mente, al nostro spirito, anche se, come ci dice il nostro fratello Ebenezer, noi siamo ribelli, come l'argilla è ribelle sotto le mani del vasaio. Amen. Questa mattina leggiamo insieme dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi al capitolo 9, i versetti da 24 a 27. Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio, corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio. Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto. Lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo, lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. Ho, swing love, swing love, sweet cheerio, coming for the carribee home. Ho, swing love, swing love, sweet cheerio, coming for the carribee home. Ho, I looked over Jordan and what did I see? Coming for the carribee home. A band of angels coming after me. Coming for the carribee home. Swing love, swing love, sweet cheerio, coming for the carribee home. Swing love, swing love, swing love, sweet cheerio, coming for the carribee home. If you get there before I do, coming for the carribee home. Tell all my friends I'm coming too, coming for the carribee home. Swing love, swing love, sweet cheerio. Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, cara sorella, caro fratello, in questi giorni ogni giornale che apriamo, ogni pagina internet, ogni programma radiofonico o televisivo, ci parla dei giochi olimpici che si sono aperti con questa manifestazione sulla Senna venerdì. Ognuno ha il loro, al proprio aneddoto da raccontare per regarsi, per lamentarsi. Ho curiosità da proporre come la composizione delle medaglie olimpiche che all'interno della medaglia d'oro, della medaglia d'argento, della medaglia di bronzo ci sarà anche un po' del ferro della Tour Eiffel. Tutto ciò che riguarda i giochi può essere letto come un incoraggiamento, può essere letto come una follia, può essere letto nel modo più diverso, dipende da chi lo guarda e da chi lo interpreta. Tutti, a modo loro, tranne coloro che vivono senza leggere, senza informarsi o senza ascoltare, partecipano ai giochi olimpici, che come dicevo prima si sono aperti il 26 luglio, e ai giochi paralimpici che si apriranno il 28 agosto, sempre a Parigi. Secondo gli Atti degli Apostoli, Paolo, il fondatore della Chiesa di Corinto, passò da Atene, questo è raccontato nel Libro degli Atti, al capitolo 16, prima di trascorrere un anno e mezzo a Corinto. Conosceva bene gli usi e i costumi greci, ma avendo saputo che c'erano delle difficoltà nella comunità di Corinto, che aveva fondato, scrisse loro da Efeso. Ma torniamo al nostro brano, perché ormai siamo anche noi credenti, immersi in questo clima olimpico e poi paraolimpico. Si parla di sport, si parla di Olimpiadi, si parla di fatiche, di vittoria. Ma quale vittoria? Allora un bambino, un adolescente, ci direbbero, mi direbbero, ma signora pastora, ma che cosa vuole? Le Olimpiadi si vive e si vive per vincere la medaglia, la medaglia d'oro, la medaglia d'argento, la medaglia di bronzo, la medaglia di legno. Ma l'Apostolo Paolo non parla di certo della vittoria delle medaglie di metallo, anche oggi con l'aggiunta del ferro della Tour Eiffel, ma parla della vittoria sulla morte e sulla divisione, sulle nostre tenebre e sul nostro ego. Abbiamo e conosciamo l'Apostolo Paolo, che giustamente si lamenta della spina nel fianco, si lamenta della debolezza, e qui invece, in questo brano, l'Apostolo Paolo parla come uno sportivo di alto livello, che trae la sua etica di vita dagli atleti, dominando il suo corpo. Una sorta, potremmo dire, di sportivo a tutto tondo, che combina il rigore della mente con l'implacabile rigore del corpo. Perché la mente? Perché per fare una maratona, per fare 42 chilometri, se la mente non è allenata e concentrata in un certo modo, non si può arrivare alla fine. Sì, come dice lo stesso Paolo, è come un pugile, perché non colpisce a caso. È come un atleta che corre con gli occhi fissi alla meta, teso alla vittoria finale. E infine, se è un ebreo tra gli ebrei, un gentile tra i gentili, perché l'Apostolo Paolo non può essere uno sportivo tra i migliori atleti? Sì, c'è una dolcezza in questa gioia di grazia offerta dal Signore, senza alcun merito da parte nostra. E allo stesso tempo, Paolo rimane quest'uomo pieno di passione che si mette al servizio del Vangelo con la stessa energia che aveva usato in precedenza per dare la caccia ai primi cristiani. Paolo diventa tutto per tutti, ma soprattutto rimane se stesso nella sua fedeltà alla parola del Signore. E Paolo ci esorta, ci esorta a fare lo stesso. Non ha senso correre se non si può vincere. Scrive, Correte dunque per vincere il premio e con l'allenamento che ne consegue. Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, caro fratello, cara sorella, a quanto pare non basta ascoltare e soltanto annunciare, ma occorre rimanere in gara, occorre combattere, occorre soffrire. La parola del Signore non è passività. E dunque è importante preparare l'anima e il corpo. Non si può trascurare uno o l'altro perché altrimenti si rischia di essere squalificati. Una lezione dura, questa del paragone con gli atleti. Non contenti di prepararci a ricevere qui una parola che ci solleva, grazie a Paolo. Ci troviamo pugili, corridori di lunga distanza, nella mezza maratona o nella maratona, velocisti sui cento metri o sui centodieci ostacoli, ma persino schermitori, giudoca allo stesso tempo, schermitori in carrozzina. Corre persone che corrono con la guida davanti perché ipovedenti. e combinando nella nostra vita di fede e di chiesa flessibilità ed efficienza personale, resistenza e performance, precisione, noi compiamo la nostra gara. Pierre de Coubertin, nel ricreare i giochi olimpici moderni, richiama alla completezza che ci si aspetta dallo sportivo. E anche l'Apostolo Paolo ci invita a tenere presente il nostro obiettivo, a non perderlo mai di vista. e usando questa metafora sportiva non vuole squalificarsi dopo aver annunciato la buona notizia, cioè non vuole squalificare le sue parole con un atteggiamento, con un comportamento contrario ad esse. che annuncia la buona novella non vuole agire in modo contrario a ciò che proclama. La differenza con gli sportivi non sta tanto nel durare poco delle loro corone intrecciate che nell'antica Grecia venivano messe sulla testa ai vincitori, ma nei metodi che realizzano questo lavoro sul corpo, secondo l'Apostolo Paolo. in definitiva l'Apostolo Paolo agisce non per essere migliore concorrente, il migliore atleta per essere conformo nel corpo e nello spirito, ma la conformità nel corpo e nello spirito è quello alla buona novella rivelata in Gesù Cristo. ma il Dio di Gesù Cristo si rivela nella sua debolezza, non in tutta la sua potenza fisica. Quindi mi potreste dire ma come? Per fare la maratona dobbiamo essere concentrati, avere una mente allenata alla durata, alla gestione, alla comprensione, all'ascolto del nostro corpo che deve essere allenato fisicamente, per correre la maratona in handbike, cioè seduto su di una, di un triciclo con tre ruote e si pedala con le braccia per andare, anche lì dobbiamo graduare la nostra forza per arrivare all'obiettivo e qui ci dice Cristo si rivela nella debolezza. Gesù Cristo non ci rivela la potenza di un Dio dominatore che schiaccia. I Vangeli non parlano mai di un vincitore che spezza, che rompe, che ecrase, come si dice in francese i suoi avversari. Incarnandosi in un piccolo uomo, Gesù è nato da Maria in un'oscura stalla. Dio si è fatto umile tra gli uomini, si è incarnato nella condizione umana e nella sua più assoluta fragilità, quella di un neonato che dipende dai suoi genitori per proteggerlo, per nutrirlo, per custodirlo. E se mai ne dubitassimo, attraverso la sua morte infame sulla croce, questa morte fatta di umiliazione, di sofferenza, lì, proprio lì, si rivela la gloria di Cristo. lontano dall'oro, lontano dalle corone della vittoria, Cristo è stato rivestito da una corona, ma una corona di spine. Egli, innocenza incarnata, è morto sulla croce per noi. Ed ecco la sua vittoria. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito figlio perché nessuno perisca ma abbia la vita eterna e con lui siamo tutti vincitori. Dalla morte in croce alla tomba vuota, Dio ci offre la più bella delle vittorie. Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, caro amico, cara amica, cara sorella, caro fratello, questa è la tua sfida olimpica, questa è la tua sfida paralimpica, questa è la mia sfida olimpica ed è la sfida paralimpica di mia figlia. Accettare ciò che Dio ti offre in Gesù Cristo, una vittoria che è liberante, assoluta, perfetta, conquistata non dal dominio in Gesù Cristo ma dall'amore di un padre, di nostro padre per i suoi figli. Fratello, sorella, rallegrati, i giochi olimpici con Gesù sono concepiti per essere dei giochi olimpici partecipativi. chiunque siamo con qualunque abilità o disabilità e qualunque cosa noi siamo e puoi essere certo, puoi essere certa che siamo tutti vincitori e quindi gioisci, gioisci con Dio che si rivela nella debolezza e non nella forza, tutta l'umanità e vincitrice dei giochi olimpici più belli di sempre. Che la debolezza di Cristo sia con voi. Amen. Da figli di un solo riscatto d'amore e un medesimo patto di fede e di spene e di piccola insieme col nostro possente Signore. Fratello, solleva il fratello, oppresso da grave il fratello, risulta se i gode le tante le lode al profito nostro Signore. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi propongo una preghiera un po' particolare che è stata preparata in occasione proprio dei giochi olimpici e paralimpici di Parigi dal Consiglio delle Chiese Cristiane di Francia che ha chiesto ad ognuno di fare propria. Per mezzo del tuo figlio Gesù Cristo hai chiamato tutte le nazioni a formare un popolo di lode per celebrarti. concedici di correre la gara fino alla fine. Guarda ora alla Francia che ospiterà i giochi olimpici e paralimpici del 2024. Aiutala a organizzare questo evento con gioia, pace e fraternità. riversa il tuo Spirito Santo su tutti coloro che lavorano per realizzare i giochi, su tutti coloro che verranno dai quattro angoli della terra, sugli atleti, sugli allenatori, sui familiari. Concedi loro la virtù di cui hanno bisogno per dare il meglio di sé che gli atleti abbiano il sostegno nei momenti di gioia come in quelli di prova, di successo e di fallimento. Aiutaci Signore ad accogliere tutti coloro che vengono da tutto il mondo, riuniti nella comune passione dello sport con il motto dei giochi olimpici più veloce, più alto, più forte insieme. Possiamo essere insieme segni del tuo amore per noi e per ogni essere umano. Amo. Andiamo Dino di giubilio come gli angeli a vedere per esaltare il suo cuore che ci guida verso il Cielo. Si è spennuti qua giù una paura c'è stata, una luce che non è questa pace ma tu sei la via e la verità la vita e la santità. Signor Gesù tornando a noi come un giorno di luminà e la ciluppi e il cuore che la sola è dignà. si è spennuti in paura una paura ciascà una luce dove questa pace va ma tu sei la via la verità la vita e la santità e la santità la nostra vita di merce che come maggi agendo e l'ho e l'alto e chiedi la polla perché è una frase ognuno se sperruti qua giù la paura ciascà una luce non è questa pace ma ma tu sei la via la verità la vita e la santità ci raccogliamo con il Padre nostro Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non esporcia la tentazione ma liberaci dal male tuo è il regno la potenza e la gloria nei secoli dei secoli Amen Che il Signore ci doni sempre la capacità di avere il nostro corpo e la nostra mente allenati per correre o rallentare al passo necessario per annunciare il tuo Vangelo per annunciare la buona novella che sono quelli che ci donano la salvezza Amen avete ascoltato il culto evangelico della Chiesa Valdese la predicazione di oggi è stata curata dalla pastora Milena Martinat di oggi